Musica Benvenuti cari telespettatori di Fano TV questa è la rassegna stampa del mattino occhio ai giornali che come sempre vi informa su quelli che sono i titoli delle notizie più importanti sul resto del Carlino e il Corriere Adriatico cominciamo dal santo del giorno vediamolo subito oggi è San Giovanni Climacco il sole è sorto alle 6.52 tramonterà le 19.33 minuti per la giornata di oggi giovedì 30 di marzo avremo un cielo sereno queste sono le provvisioni il bollettino della protezione civile delle Marche le temperature sono in lieve aumento per domani venerdì 31 marzo ancora cielo sereno poco nuvoloso con temperature ancora in lieve aumento primo di aprile eccolo qua sabato cielo poco nuvoloso al mattino con aumento delle nuvole medio alte nel corso del pomeriggio le temperature sono stazionarie le massime in lieve aumento le temperature minime ancora fenomeni comunque di bel tempo nel corso dei prossimi giorni allora dal resto del Carlino la pagina principale di Pesaro vedete la fotonotizia per l'arresto di un 19enne macedone per l'aggressione al campus un battibecco tra studenti che poi è finito appunto con una coltellata a Urbino invece sferra un fendente ad un commerciante e poi va a mangiare la pizza è uno studente universitario un po' avanti con gli anni questa è la cronaca in primo piano sul Carlino di Pesaro il centro invece in centro cantiere a singhiozzo murati dentro i nostri negozi protestano i commercianti di via San Francesco i quali chiedono al comune di vigilare sui lavori in corso e allora da Urbino dicevamo turco di M dammi il vino poi estrae un taglierino il cutter e lo taglia alla mano davanti a un kebab manetta ad un pugliese studente fuori corso si tratta di un 43enne originario di Altamura residente a Urbino studente universitario che l'altra sera è andato a chiedere un bicchiere di vino dopo però l'orario in cui è concesso perché dopo un certo orario non si può più dare da bere alcolice e che cosa ha detto infatti il commesso io devo rispettare l'ordinanza la bottiglia non puoi portarla fuori puoi bere ma solo all'interno del locale a lui non è stato bene e quindi gli ha tirato fuori questo taglierino e lo ha ferito alla mano questa è la cronaca da Urbino e la stessa cosa sul corriere adriatico gli nega da bere lo ha coltella arrestato studente fuori corso l'aggressione in piazzale delle erbe dipendente del locale ferito alla mano con il taglierino torniamo sul resto del carino alla pagina di Fano abusivi occhi chiusi sulla illegalità parliamo di parcheggiatori e di accattoni cioè quelli che chiedono l'elemosina fratelli d'Italia e Forza Italia uniti contro la giunta seri è un'occupazione redditizia che provoca pure un danno erariale dicono dicono loro e secondo la denuncia di questi esponenti politici guadagnano 70 euro al giorno i parcheggiatori abusivi guadagnerebbero queste cifre qua 150 addirittura nei fini settimana è un vero e proprio lavoro arrivano dalla Romagna e perfino da fuori regione rivendono anche i ticket quelli usati e non ancora scaduti a prezzo ridotto provocando un danno erariale al comune di Fano sotto invece la cronaca gli spilla quasi 70 mila euro tra le lenzuola vittima un vedovo di 75 anni di Fano le truffatrici sono due donne una 59enne campana e una 41enne fanese già note per reati di truffa sempre danno di uomini di una certa età ancora dal resto del calino via libera allo scimitar aprirà a giugno Pezzolesi il direttore della Comarpesca proprietario della Comarpesca dice al porto ne beneficeremo tutti e in effetti è chiuso dal 2015 ha subito furti e danni fra le proteste dei pescatori anche per la posizione in cui è stata ormeggiata e sotto Pezzolesi dicevo dice il sogno poi è che la scimitar possa rimanere aperta tutto l'anno il nostro arrivo completerà l'offerta commerciale di quell'angolo di porto che si fa sempre più interessante dal punto di vista commerciale con tante attività diverse che possono creare collaborando appunto insieme questa è la pagina di Fano insieme a quest'altra che adesso ecco vi mostriamo quelle anfore quelle anfore romane devono restare a Fano parla Baldelli ex ispettore della sovrintendenza che interviene su questo ritrovamento di queste anfore questi reperti di epoca romana trovati nell'area di Sant'Orso non vedo perché dice lui spedirla a Dancona quando abbiamo un magazzino apposito e sappiamo che quando vanno a finire a Dancona poi lì ci restano vita natural durante allora guardate invece l'altra pagina di Fossombrone Cagli e Urbania qui siamo a Fossombrone bando troppi nove mesi Savelli sull'affidamento in concessione della casa di riposo l'ex amministratore dice va subito verificato se la legge è stata violata e perché la procedura si sta allungando mentre da Cagli la fotografia eloquente cinghiali a due passi dalle case i residenti della frazione di Civita sono allarmati si tratta di un gruppo di case vicino alla sponda sinistra del fiume Bosso di fronte al centro storico di Cagli che hanno avuto questi abitanti un incontro ravvicinato con questi cinghiali vedete nella fotografia adesso andiamo invece sul Corriere Adriatico la pagina principale in primo piano l'accoltellamento di questo studente al campus di Pesero in manette un giovane macedone la violenza nel bar esterno dello scientifico l'accusa è di tentato omicidio poi lo sport in breve i tifosi caricano la vis Pesero crediamoci ci sono i playoff e poi andiamo sulla sulla fotografia centrale del del Corriere Adriatico eccola qua occhiali speciali e degustazione di piatti audio guidata art glass per amare Rossini con tutti i sensi domenica l'esperienza con la realtà aumentata per i visitatori della casa del Cigno e questa è la prima pagina poi Ricci nel far west di via Rossi subito i vigili poi le sanzioni parcheggi impossibili i ciclisti scatenati faccia a faccia senza filtri del sindaco pesarese con residenti e commercianti vedete le fotografie poi laboratorio di via via Bonini senso unico o la ciclabile incontro a Santa Veneranda autovelox e rondò a Ponte Valle e c'è anche la cronica come avete visto dove una bici è stata urtata e l'auto non si è fermata è successo in via Caboto dove una ciclista è caduta dopo essere stata urtata da un'auto la proniosi per lei è di otto giorni la pagina di Fano invece la vediamo subito sull'aeroporto ancora la società le società americane che conducono al Delaware la già cancellate poi ancora sotto vedete tutta una pagina dedicata a questa a questa vicenda schermato per tre anni l'assetto proprietario di Eagle Aviation che opera nell'aeroporto di Fano ancora dalle pagine del Corriere vedo seduto era girato due donne gli spillano 70 mila euro una campana e una fanese denunciate per truffa l'anziano avvicinato e blandito con rapporti sessuali l'indagine è stata condotta dal commissariato di polizia di Fano ma i soldi non sono stati recuperati i soldi sono stati chiesti un po' alla volta con il pretesto di affrontare le spese per ricevere una eredità e poi sotto ancora la notizia degli accattoni per mestiere questa è legalità Fratelli d'Italia e Alleanza Nazionale Forza Italia contro il sindaco Buonista il divieto comunale dicono c'è già contestata anche la resistenza della sinistra a mettere le telecamere in tutta la città la frattura nel centro-sinistra Severi fa un gruppo autonomo l'ultimo intervento di Riccardo Severi come capogruppo di Noi Città che è la lista del sindaco il capogruppo si dissocia alla delibera sullo statuto Ase testata per Riccardo Severi la goccia che ha fatto traboccare il vaso il CDA introdotto al posto dell'amministratore unico è ritenuto illegittimo anche dal Movimento 5 Stelle sotto Guzzi invece si dimette la prima elezione 27 anni fa l'ex sindaco mantiene la promessa per una staffetta con l'ex assessore Luca Serfilippi che adesso subenterrà lo ricorderete insomma Stefano Guzzi è in corsa per diventare sindaco di Colle al Metauro per l'assedio dei medici la giornata della memoria sulla pagina della Valle del Cesano Mondolfo celebre eroismo e tragedia 500 anni dall'azione di Lorenzo II e poi fanno esplodere il Bancomat in comune boato e paura nella notte ingenti i danni siamo a Mondavio si tratta di un film già visto nella notte tra martedì e mercoledì i malviventi hanno fatto saltare il Bancomat di Banca Suasa che si trova all'interno del Palazzo del Comune in pieno centro storico il bottino di circa 5 mila euro sotto da San Lorenzo in campo non aumentiamo le tasse nonostante i tagli lo assicura il sindaco di San Lorenzo Davide Dell'Onti che presenta il bilancio di previsione dice stessi servizi e via ai lavori da Senigallia invece lungomare invaso dai detriti sono 10 mila tonnellate di fieno scintilla in consiglio e sindaco furioso per le polemiche l'anno scorso dice il sindaco Mangialardi nessuno si è accorto sulla provenienza invece è ancora mistero anche il ministero è stato informato l'ultima pagina è quella sempre di Senigallia borseggio nei giardini condominali caccia agli scippatori delle vecchiette i carabinieri setacciano il vivere verde la pensionata sotto shock è stata sorpresa alle spalle mentre l'intervento dell'eleambulanza ieri a Ostravetere per una brutta caduta da una scala per un tunisino di 45 anni che stava effettuando dei lavori dentro casa nel centro storico di Ostravetere mi pare che ci siamo abbiamo vi abbiamo raccontato tutto quanto ne abbiamo ancora un paio di pagine torniamo andiamo a Vallefoglia Vallefoglia case popolari caccia ai furbetti intesa per scoprire i finti poveri c'è stato questo accordo di cui vi abbiamo parlato anche nel telegiornale di ieri tra il comune di Vallefoglia del sindaco Palmiero Ucchielli e il comando provinciale della guardia di finanza di Pesorubino soprattutto per vigilare su chi usufruisce di prestazioni agevolate e dunque scoprire i finti poveri che usufruiscono di prestazioni agevolate dall'edilizia sovvenzionata alla riduzione del tariffo dell'asilo all'accesso ai fondi anticrisi c'è chi ci marcia c'è chi fa il furbetto a discapito naturalmente di chi invece ne ha davvero bisogno e quindi c'è questa stretta questo giro di vite di Ucchielli e Raimondo Raimondo è il comandante provinciale della guardia di finanza vogliamo garantire i diritti alle fasce più deboli della società e poi sotto ladri spietati irrompono nella sede dell'Aias un bottino misero e tanti danni altro colpo in casa invece rubati gioielli per migliaia di euro sempre nella cronaca di Pesaro dove purtroppo c'è da segnalare ancora l'azione dei ladri Igli e Mario il processo il processo per l'uccisione di Ismaele Lulli il 17enne di Sant'Angelo Invado ucciso il 19 luglio del 2015 barbaramente ucciso nel 2015 dopo la duplice richiesta di ergastologici saranno le arringhe difensive dei legali dei due imputati in aula anche le parti civili a tutela della famiglia di Ismaele per presentare domanda di risarcimento economico ebbene è tutto davvero noi ci fermiamo qui la rassegna stampa torna domani mattina come sempre alle 7.30 noi ci vediamo stasera per il telegiornale occhio alla notizia grazie per aver seguito questo appuntamento con l'informazione a voi tutti l'augurio di una buona giornata arrivederci grazie per aver guardato